Questa volta viene la notte, wow! Botta! Botta in rottilineo! Guarda la cosa! No! No! Al sinistra vediamo che altra toccata tra Spadoni e la oretta Gallotta. Davanti, anche se lo spiega è tranquillamente. Vabbè, non trova. Trova ancora. Non è buonissimo, ma anche. Via la notte, giù sulla, penso che è in mezzo alla vettura, costruisce. Non va mica male. Ma forse però, eh? Perché non si fermano? La domanda è, per quale motivo non si fermano? Forse sì.